Mercoledì 13 dicembre 2017, benvenuti, bentornati, nuovo appuntamento con la tecnologia, appuntamento con TechRewind, la parentesi di Yoetech in cui riavvolgiamo il nastro e andiamo a prendere proprio i riferimenti temporali per cercare poi di capire quali saranno le tecnologie che arriveranno nel futuro. Settimana scorsa abbiamo parlato di hardware, oggi spostiamoci sull'altra sponda, parliamo di software dopo la sigla. Software nel 2017, ovviamente per questa puntata cercherò di fare riferimento soprattutto ai software di Apple perché ovviamente tutto ciò che mi riguarda ha una mela morsicata dietro, sopra, di fianco, insomma un pochino dovunque, però magari cercherò anche di fare anche qualche riferimento al mondo Android eccetera eccetera. Per quanto mi riguarda il 2017 è stato un anno decisamente importante per quanto riguarda il software per il mio modo in cui utilizzo la tecnologia. La mia tecnologia vuol dire iPad. iPad nel 2017 per Apple è stato un chiaro e proprio punto centrale sia per quanto riguarda proprio l'hardware, ma qua ne parleremo tra un paio di settimane quando faremo proprio il riassuntone finale con le classifiche di Yoetech. Dall'altra parte ovviamente c'è il software. Durante la WWDC, durante quel segmento della WWDC, io ero praticamente come un ragazzino che vedeva il proprio mito. Ero come un chitarrista vedere, non so, Angus Young, piuttosto che Cesario degli Elio e le storietese o un cantante che può parlare a tu per tu con David Bowie. Non so, sto ipotizzando e sto facendo soprattutto nomi a caso. Comunque la cosa abbastanza interessante è che Apple in qualche modo è riuscita a focalizzare l'attenzione su un prodotto forse anche un po' troppo dimenticato. iPad nel 2017, anche grazie secondo me al software, è continuato a salire. È salito sia ovviamente per quanto riguarda iPad Pro, ha presentato due prodotti che in qualche modo si andavano a discostare dai precedenti. Ovviamente per la prima volta abbiamo detto addio ad un dispositivo con schermo da 9,7 pollici ed è arrivato iPad Pro da 10,5 pollici. Ovviamente il display più grande resta sempre da 12,9 pollici, comunque anche lì poi le novità al suo interno sono state veramente tante. Però per la prima volta, secondo me molto più che in passato con iOS 9, con un paio di innovazioni buttate quasi a caso, quindi lo split screen e lo slide over, con il drag and drop e il dock, nel 2017 Apple ha portato nuova linfa vitale ad iPad. E per quanto mi riguarda questo è stato un aggiornamento software veramente, veramente, veramente importante perché iPad per quanto mi riguarda è il punto cardine del mio ecosistema, è il dispositivo che più mi fa compagnia durante la giornata, è il primo dispositivo che prendo in mano la mattina, è l'ultimo dispositivo che poggio la sera prima di addormentarmi. E quindi la tecnologia non è stata solamente prettamente molto ma molto tangibile, ma anche qualcosa di intangibile. Anche se c'è da dire che forse le prime release di iOS 11 non sono state molto ben rilasciate, nel senso che fino forse ad iOS 11.2 che è ancora in beta nell'esatto momento in cui sto registrando, ma penso che tra un po' sarà comunque rilasciato pubblicamente, iOS 11.2 dovrebbe essere forse la prima release del software veramente, veramente, veramente stabile. La cosa un pochino che mi ha lasciato l'amare in bocca, devo essere però sincero, è soprattutto ciò che riguarda tutto il mondo che c'è forse attorno a delle promesse che Apple ad oggi non ha mantenuto. Neanche in iOS 11.2 a quanto pare sarà implementato iMessaging in a Cloud, per me iMessaging in a Cloud è forse la cosa più importante di iOS 11. Per quale motivo? iOS 11 per me vuol dire semplicemente cosa Apple vuole fare nel futuro. Ovviamente più forse che in passato, appunto, guardando per lo più l'iPad. Con iOS 11.2 però non abbiamo ancora visto la funzione che mi aspetta voi di più. iMessaging in a Cloud è la cosa più importante per quanto mi riguarda, perché forse porta l'ultimo tassello a il Cloud di iPhone e di iPad. Nel senso che c'è chi, per esempio, sta per ricevere il proprio iPhone X, ma ad oggi non può ancora ripressionare il dispositivo come nuovo e avere tutte le proprie conversazioni sul Cloud scaricate e quindi comunque non dover necessariamente fare il backup e poi trasferirlo nel dispositivo. E questa è una funzione, tra virgolette, salvavita, perché comunque abbiamo visto, per esempio, con software tipo Telegram quanto questa funzione sia utile. Se io rompo un telefono, ne compro un nuovo, metto il mio numero di telefono, metto il codice di Telegram e mi ritrovo tutte le applicazioni, no, non tutte le applicazioni, ma tutte le conversazioni che io ho avuto fino a quel momento. Quando Apple ha presentato questa versione del sistema operativo e soprattutto ha presentato questa funzione, io veramente ero un bambino felice dopo che gli hanno appena regalato un gelato, perché comunque iOS 11.0 inizialmente, ma anche 1.1 e 1.2 non sono ancora riusciti a implementare questa funzione. vedremo se in futuro Apple riuscirà ad implementarla. Ovviamente questa versione del software ha portato tante piccole correzioni, se così vogliamo definirle, a gravi mancanze. Innanzitutto, appunto, c'è questa uniformità tra iPad e Mac, ripresa poi ovviamente da iPhone X, perché, per esempio, la dock che c'è su iPhone X è molto più simile a quella di iPad rispetto invece a quella presente su iPhone 8. La cosa... Oh, iPhone 8 e ovviamente gli iPhone precedenti. La cosa che però io mi aspetto dal 2018 dal punto di vista prettamente software sarà una rifinitura. Non mi piace per niente ogni volta che qualsiasi utente va a riprendere in mano una release software totalmente cambiata. E quindi, da questo punto di vista, iOS 11 deve promettere un buon decorso per poi arrivare nel 2018 con la WWDC con tante funzioni. La prima che io chiedo veramente in ginocchio a Craig Federighi è il, per esempio, Picture in Picture, perché c'è chi ha un dispositivo con schermo da 5,5 pollici, un dispositivo con schermo da 5,8 pollici e ad oggi non può mettere magari un riquadrino anche piccolo per continuare a vedere un video e magari continuare a fare altro. La cosa assurda è che, per esempio, io ho provato questa funzione in Telegram anche con dispositivi veramente piccoli come iPhone SE ed è stata forse la svolta perché comunque la cosa un pochino più importante non è semplicemente come si vedono i contenuti ma come si può fruire proprio il contenuto all'interno del proprio dispositivo. Un'altra cosa che io mi aspetto veramente da iOS 12 è l'uniformità. A me piace tantissimo avere comunque quattro strade con i quattro sistemi operativi di Apple che vanno avanti contemporaneamente. Da una parte ovviamente abbiamo iOS, dall'altra parte abbiamo Mac OS e poi ovviamente watchOS e tvOS. Una delle cose che però mi ha fatto un pochino incavolare è come se nella categoria iOS iPad e iPhone hanno preso due strade diverse. Per quale motivo? Ovviamente la peculiarità di iPhone X è l'assenza del tasto home. L'assenza del tasto home vuol dire dispositivo utilizzabile esclusivamente con gesture. Gesture facili, gesture difficili non vorrei parlare di questo. La cosa che però mi ha spinto un pochino a pensare è il fatto che comunque abbiamo un dispositivo che si può usare in una maniera abbiamo un altro dispositivo, l'iPad che si usa in maniera totalmente diversa anch'esso tramite gesture. Poi non so se in un futuro arriverà un iPad che prenderà le stesse caratteristiche di iPhone X e le trasmuterà su uno schermo da 10 pollici e 5 o da magari qualcosina di più. La cosa che però spero che Apple riesca a fare è portare comunque le stesse gesture su tutti i propri dispositivi. Un'altra cosa che mi piacerebbe magari è implementare un tastino per cancellare le orecchie di iPhone X perché comunque lo sappiamo benissimo e lo sapete meglio di me che ad alcune persone le orecchie di iPhone X non piacciono per cui magari visto che proprio Apple è stata l'azienda che ha vietato la possibilità di nascondere le orecchie magari non so in un futuro tante persone potranno avere il telefono che più gli piace schiacciando semplicemente un tastino. Un'altra cosa che Apple dovrebbe fare nel 2018 secondo me però è prestare attenzione ad un altro sistema operativo ad un sistema operativo che i più nostalgici usano da diverso tempo e mi sto riferendo a macOS perché macOS è stato un sistema operativo bisfrattato da Apple perché ha parlato di iPad ha portato tante novità su iPad e poi c'è il Mac che ogni tanto ci ricordiamo di avere anche dei dispositivi desktop altre volte invece cos'è un computer e quindi da questo punto di vista Apple deve necessariamente concentrarsi sul Mac deve concentrarsi sul Mac innanzitutto perché le tematiche sono già presenti nei discorsi di Tim Cook il Mac Pro il Mac Mini sono dei dispositivi che Apple deve necessariamente presentare perché il suo amministratore delegato ha fatto qualche promessa e quindi ci sarà qualcuno che prima o poi vorrebbe che queste promesse verranno in un futuro mantenute altra cosa abbastanza importante secondo me invece appunto è l'evoluzione del Mac che innanzitutto ha un dispositivo di input innovativo la Touch Bar che deve per forza essere approfondita magari non so se arriverà anche sui Mac non Pro MacBook non Pro quindi il MacBook 12 pollici e ovviamente tutta la gamma desktop oppure resterà un'esclusiva dei portatili dedicati ai professionisti o ai pseudotali perché comunque nella WWDC del 2017 non abbiamo ancora potuto apprezzare secondo me al meglio questa Touch Bar non ci sono stati aggiunti comandi non sono state aggiunte funzioni e poi c'è tutto il discorso legato alle applicazioni quello che mi aspetto è una rivoluzione 2017 è stata rivoluzione di App Store ad alcuni piace ad alcuni no io dopo averla provata oramai per qualche settimana devo dire che non è male noi ad oggi apriamo ancora l'App Store sul Mac che da ICR non si chiama più Mac App Store ma si chiama anche esso App Store e ci troviamo di fronte alla preistoria detto questo quello che potrebbe fare Apple sarebbe secondo me una vera e propria rivoluzione andando ad unire i due store e creando forse delle super applicazioni quindi se io ho un'applicazione a pacchetti nel senso che è un discorso che ho già fatto diverse volte su questo podcast se io ho Tweetbot che è un'applicazione disponibile per due dispositivi per due piattaforme quindi macOS e iOS io con un leggero sconto magari posso prendere tutte e due le versioni piuttosto che per esempio fantastica che ha un'applicazione per iPhone un'applicazione per iPad un'applicazione per Mac e poi ovviamente legato a quella di iPhone c'è anche quella per Apple Watch e da lì poi rivoluzionare il sistema operativo imparare l'esperienza cosa ha insegnato ad Apple iOS è un sistema operativo con tante applicazioni quindi se ad esempio arrivasse non solo applicazioni di Apple Music specifica nel 2018 a me non dispiacerebbe però comunque un'applicazione musica che deve fare quello che già fa iTunes perché iTunes per me è un software veramente fatto bene perché ad esempio io ci metto i punti di entrata e i punti di uscita nelle canzoni e poi si sincronizzano automaticamente con gli altri miei dispositivi ho la possibilità di uploadare la musica in cloud la mia musica in cloud e quindi in qualche modo avere la mia libreria musicale con magari la canzone che suono col flauto faccio un esempio sui miei dispositivi in cloud e non invece per forza in locale come avviene per esempio con altre applicazioni simili tipo Spotify e poi la cosa secondo me essenziale è portare tante funzioni per esempio in messaggi ad oggi non possiamo ancora è un mio cruccio lo sapete ed è una mia battaglia che spero che nel 2018 potrebbe finire non ci sono ancora gli effetti dei messaggi sul Mac è una piccolezza è una cosa che nessuno usa più però comunque è una funzione che cavo Apple quanto ci mette a implementare gli effetti ci sono anche sull'Apple Watch per quale motivo non le posso vedere su Mac e potrebbe essere un buon un buon punto di partenza poi ovviamente Apple Watch lo sapete iOS 4 Watch OS 4 ha portato diverse novità perché comunque ha portato Siri la watch face di Siri che per me è diventata la nuova watch face di riferimento però non è supportata e quindi anche lì cercare magari di dare la possibilità agli sviluppatori di implementare un widget una complication un pacchettino per l'applicazione di Siri magari senza aver proprio la propria app sviluppata per Apple Watch ad oggi io incrocio ancora le dita perché vorrei l'app di Fantastical l'app di Money Pro vorrei l'app anche di TV Time per aver la possibilità di vedere magari al mio polso visto che alla fine è semplicemente un calendario diviso in applicazioni la possibilità di vedere quale tv quale serie tv c'è questa sera ovviamente con Fantastical i miei appuntamenti sul calendario con Money Pro ad esempio vedere tutte le spese che devo fare e quindi anche lì vorrei che ci fosse un minimo di riapertura ad Apple versus gli sviluppatori perché in ogni caso deve credere ancora negli sviluppatori e poi comunque dare la possibilità agli sviluppatori di sviluppare le applicazioni molto ma molto ma molto più semplicemente e soprattutto dare la possibilità di accedere a degli ambiti che per esempio adesso ad oggi le applicazioni forse non possono non possono fare anche perché ricordiamoci che a settembre è uscito un un Apple Watch in serie 3 con la sim integrata e non so ancora quante applicazioni abbiano in supporto all'LTE in Italia non è ancora arrivato vedremo se a partire dal 2018 arriverà anche il smartwatch di Apple dotato di connettività dati io spero di sì però in ogni caso Apple deve credere di più negli sviluppatori anche se comunque questo 2017 per quanto riguarda il software secondo me è stato un anno proficuo poi comunque abbiamo visto anche lato Android migliori nelle notifiche che anche Apple potrebbe implementare il PIP il picture in picture anche sugli smartphone che per esempio Apple potrebbe implementare quindi in qualche modo l'eterna sfida iOS e Android viene proposta ancora però mi piacerebbe che comunque ci sia molto ma molto di più e soprattutto spero che comunque tutto questo porti ad un'ottimizzazione soprattutto per i dispositivi vecchi e soprattutto facciamo in modo che per esempio iPad non venga dimenticato per cui secondo me il 2018 sarà un anno decisamente proficuo anche per quanto riguarda il software con questo direi che anche la puntata di oggi può dirsi conclusa noi ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata delle Tech Review Tech Rewind non Tech Review che